Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Spero che i rumori di sottofondo non si sentiranno. Ho migliorato le luci, ci sono riuscita. Allora, voi sentirà tutto bene. Allora questo video, spero che questo video vi possa piacere. Allora questo video è il continuo di un video che vi lascio sotto, sopra o sotto in descrizione, di un regalo che mi ha fatto la gemella petta, che faccio sotto ovviamente. Andate a guardare il suo canale, mi raccomando. Allora, lei mi ha fatto un regalo per il compleanno, perché io il 20 maggio ho fatto 27 anni. Quindi, scusate se ho il fular, ma ho un male al collo terribile. Però cerco sempre di fare video. Adesso vi spiegherò, praticamente, a cosa serviva, diciamo, il regalo che mi ha fatto petta. Per chi non si ricordasse che cos'è, sono questi guantini qua. Ora, vedete che hanno delle, vedete che hanno delle zigrinature. Ovviamente sono azzurro-blu. Adesso quello ci sembrano più azzurri che blu. Io adoro questo colore, infatti, come potete vedere le mie unghie. Io li adoro, grazie, perché mi le petta. Io li volevo da tantissimo tempo. Sono bellissimi, ragazzi. Vi faccio vedere cosa servono. Comunque, questi qua sono i guanti. Io ovviamente ho le mani un pochettino piccole, però. Allora, vi faccio sentire cosa fanno questi guanti. Io voglio che chiudiate gli occhi e sentiate solo il suono dei guanti. E mi scrivete sotto in descrizione la prima cosa che vi viene in mente se sentite solo il suono, senza vedere che sono i guanti. Allora, vedete. 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 Allora. Perché io li amo, molti diranno, ma perché vi ha regalato un paio di guanti per lavare i piatti, non servono per lavare i piatti, io userò solo per fare gli ASMR, se non li rovino e vi lascio ancora a sentire cosa fanno. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.